Oh, oh, ciao! Wangsan! Come fai a conoscere il mio nome? Oh, scusa, sembri proprio qualcuno che conosco. Oh, davvero? Sei giapponese? Sì, vivo in un posto chiamato Yokosuka. Yokosuka? E dove lavora mio fratello minore? Non dirmi che intendi Wangsung di Ajiichi? Anjiichi, sì, è così. E quindi, qual è il tuo nome? Il mio nome è Dio Hazuki. Hazuki-san, giusto? Se mai avrai dei problemi, vieni a parlarmi! Grazie, è stato un piacere conoscerti.